Presidente, questa mattina tante persone, amici, soci del club autosportivo per salutare insieme il nuovo anno e anche scambiarci gli auguri. Un bilancio di questa 2021. Esatto Enzo, grazie. Siamo qua riuniti di circa 100 persone con lo spettacolo successivo di Max Pisu per noi in diretta quindi con la sua presenza e siamo qua per il bilancio di quest'anno per fare gli auguri di natale tutti insieme. Il bilancio di quest'anno è positivo nonostante quello che è successo con la pandemia che un po' ha guastato i festeggiamenti di ognuno però direi che è un bilancio positivo, i soci continuano a crescere, il club sul territorio è sempre più forte e siamo felici di questo. Grazie. Alla vicepresidente chiediamo anche quali sono i progetti per il 2022. Ma per il prossimo anno abbiamo un cantiere diversi progetti tra cui il voler riprendere anche a fare magari qualche weekend insieme. Questo è un augurio che tutto vada verso il verso giusto e possiamo riprendere in pieno le attività del club. Presidente, i valori del club, l'amicizia, valori profondi che in qualche modo ci tengono uniti. Il tuo mood è diventato uno slogan di tutti. Sono quelli che sono fin dall'inizio, da cinque anni a questa parte, la condivisione, l'amicizia, il senso di appartenenza tutti per uno, uno per tutti. Queste cose qua che ci hanno distinto fino a oggi, ci hanno permesso di superare i 200 soci, di essere tanti amici, di aver dentro anche semplici appassionati, non possessori e basta, è stato secondo me il segreto di essere qualcosa di diverso e questo ha secondo me premiato questa unione, questa condivisione. Facciamo gli auguri a tutti i soci. Auguri a tutti e auguri a tutti.